Prime sospensioni per gli operatori sanitari non vaccinati in ASL4. Sono 17 dipendenti che fino al 31 dicembre non riceveranno stipendio né contributi, così come previsto dalla legge statale che impone l'obbligo vaccinale per la categoria. Nei prossimi giorni potrebbero però aumentare. Esistono due diverse categorie di possibili incrementi. Una interna di circa 240 posizioni in corso di accertamento per diverse motivazioni. Alcuni hanno presentato una motivazione sanitaria ritenuta non valida e altri hanno prodotto certificati di prenotazione in data troppo avanzata. Per cui queste due categorie sono state invitate a presentarsi a una seduta vaccinale dal 24 al 26 agosto. Esistono poi un altro centinaio di posizioni su cui è in corso un accertamento per quanto riguarda le loro qualifiche di appartenenza, ossia dove si deve verificare se queste persone rientrano negli operatori sanitari oggetto di applicazione della norma. I dipendenti sospesi potranno essere reintegrati in ogni momento appena decideranno di aderire alla campagna vaccinale e riceveranno la prima dose. Già negli ultimi due giorni, 6 dei 23 lavoratori destinati alla sospensione hanno deciso di vaccinarsi. Per ora i sospesi sono 17 su 1.252, l'1,36%, un numero contenuto ma che potrebbe creare qualche problema alla sanità locale, specialmente nel periodo estivo in cui il Tigulio si riempie di turisti e in cui i diversi lavoratori sono in ferie. La tempistica chiaramente non l'abbiamo scelta, anche se in qualunque momento dell'anno sarebbe stata comunque grave. Stiamo in una fase estremamente complicata sotto il profilo organizzativo. L'azienda insieme alla Regione stanno ripartendo verso il recupero delle prestazioni, per cui abbiamo veramente bisogno di tutto il personale. Questa tuttavia è la norma e noi dobbiamo, come le altre aziende, provvedere solo ad applicarla.